Questo pomeriggio 6 luglio 2017 è avvenuto un incidente sulla strada provinciale 4 e 24 la Pergolese all'altezza di Castelvecchio, nei pressi dell'esercizio Magda Tumiadori. L'impatto è avvenuto tra un'auto di piccola cilindrata e un motorino, un piccolo scooter 50 di cilindrata su cui viaggiavano due ragazze. La dinamica è tutta da verificare nella sua completezza ma sembra ci sia stato un tamponamento da parte dello scooter nei confronti dell'auto. Prontamente intervenuti sul posto le ambulanze che hanno soccorso le due ragazze, entrambe coscienti al momento dei soccorsi, sul posto la Polizia Municipale di Mondavio e i carabinieri di Pergola che stavano transitando sulla provinciale in quel momento. Come detto al momento non conosciamo le condizioni delle due ragazze nella loro provenienza anche se da notizie tutte da verificare sembrano siano residenti nella provincia di Ancuna. In mattinata un altro incidente sempre sulla strada provinciale 4 e 24 che ha visto coinvolte due auto sul tratto di strada denominata le curve di Monteporzio. Le due auto si sono toccate ed una delle due è finita la sua corsa nel campo, ancora tutte da verificare anche in questo caso le condizioni delle persone coinvolte.